Buongiorno, benvenuti a questo nuovo appuntamento offerto da WeBank. Nel webinar di oggi parleremo del posizionamento degli istituzionali all'interno degli indici azionari, su azioni o eh particolari oppure su settori in generale. Ad aiutarci in questo abbiamo il nostro Stefano Sabetta. Buongiorno Stefano. Buongiorno Pietro, buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato. Che ci dirà brevemente, ci farà un sommario di quello di cui si parlerà in questo webinar. Sì Pietro, oggi faremo una sessione recapitolando un pochettino tutti gli argomenti che abbiamo trattato da inizio dell'anno scorso in maniera eh molto molto rapida. Andremo a vedere appunto quelle che sono state, quelle che sono i posizionamenti, soprattutto short sul nostro listino, faremo una piccola analisi aggiornata ai dati di ieri. Eh poi come sempre eh evolveremo la nostra analisi andando a prendere, a farci aiutare eh da opportune metriche ed effettueremo dei delle rapide sessioni di analisi tecnica sui listini, sui titoli, principalmente sui titoli italiani, andando a vedere com'è possibile utilizzare i dati che provengono da fonti pubbliche liberamente consultabili eh per la nostra analisi tecnica e per le nostre decisioni di trading e di investimento. Molto bene. Allora per seguirci potete seguirci sia su YouTube sia sulla pagina Facebook di WeBank. Vi invito a iscrivervi a quella che preferite in modo tale da essere eh sempre aggiornati sulle dirette che facciamo quasi quotidianamente. Io mi chiamo Pietro Froyo, sono consulente finanziario di WeBank. Se vi interessa seguite il webinar. Grazie.